Un caro saluto da Mario Giuliaci. Il tempo è previsto per il mercoledì 8 aprile. Si consolida e si estende a tutta l'Italia l'alta pressione che da più giorni già insisteva sul centro-nord della penisola. Alta pressione che probabilmente insisterà sull'Italia almeno fino a metà mese. Ecco allora il tempo che ci aspetta domani, bel tempo ovunque ovviamente con l'alta pressione, solo un po' di innocue nuvole sull'Arzio, sulle regioni meridionali e sulle insole maggiore. Temperature super giù invariante, massime intorno 14-17 gradi sul Medio Basso Adriatico e al Sud, 18-19 gradi sul Nord Italia, regione Tirenica e Sardegna. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliaci. Vi ricordo di scaricare dall'home page del nostro sito la nostra app che è molto semplice da usare.